Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati sul mio canale social YouTube Nicola De Lucia. Allora, come vedete dall'immagine di video copertina, parliamo quest'oggi di palla canestro inclusiva, socialmente inclusiva Baskin, domenica, questa domenica 28 gennaio 2024 alle ore 11.30 inizierà ufficialmente il campionato interregionale Puglia-Molise 2024, la partita di apertura ufficiale sarà Forti Tudo-Trani contro Atletica Andre, quindi possiamo dire una sorta di derby bat, per me sarà la, credo la terza, terza sicuro, forse quarta, ma credo più terza esperienza, la seconda di fila da staff refertista, che quest'anno sarà anche in compagnia, in attima compagnia, quindi appunto io e ovviamente la Forti Tudo in Basket, Baskin Trani, invita tutta la cittadinanza a prendere parte sugli spalti, sulle tribune del Palazzetto dello Sport, Palazzi di Trani, questa domenica 28 gennaio 2024, ovviamente venite anche un po' prima delle 11.30 per prendere posto, spettacolo sicuramente ci sarà, divertimento, inclusione, che dire, noi ci vediamo al prossimo video, quindi viva il basket, il basking, viva lo sport, viva l'inclusione, ciao!